signora è la polizia signora signora chiamai i soccorsi si chiamai i soccorsi io abito al numero 8 quando sono tornato dal lavoro verso il 5 di mattina la porta era spalancata ho visto che era stata forzata ho chiamato la signora Nivolo buonasera capo il medico legale è arrivato sta esaminando il corpo e frazione? si proprio lì con un piede di porco o qualcosa del genere buonasera consiglio posso vedere il viso? causa del decesso? ha segni di strangolamento sul collo la conferma dopo l'autopsia omicidio quanti anni aveva? 83 anni hanno trovato i documenti in sala da pranzo andiamo posso entrare? si certo